vada vada non cincischi ma qua c'è la scella ma che ansia che mi sta facendo venire sta mappa qua eh che numero c'è un altro mortacci tuo ancora il mondo salvato ma siamo superman ah qui c'è una cesta da prendere rimbalzando vedi dove ah l'ha in alto no ho fallito qua ah qua c'è una specie di parkour vado aspetta aspetta qua c'è la cesta aspetta da vedere non so dall'alto cosa possiamo fare la niente lascia un'altra cesta è lì sopra di te aspetta si prenderà qui mi sa da tempo se guardi in alto dove cazzo era era tipo è nel buco là facendo così mi sa che è l'unico modo ops ho pigiato nel momento sbagliato ti sei schiantato no 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 non mi sono schiantato però ho pigiato nel momento sbagliato allora 5 bottiglie dell'enchanting vieni via da lì via ops ho sbagliato nini per questa serie con zanzo siccome la mappa è molto pesante abbiamo avuto bisogno di un server che funzionasse alla grande che potesse appunto contenere questa mappa nel migliore dei modi perché poi per uno che porta video su youtube avere una mappa che poi si la regge ma lagga per reggerla non è proprio la migliore la migliore soluzione quindi trovate in descrizione il link dove appunto acquistare server di qualunque genere dove caricare mappe di minecraft server team speak eccetera eccetera ovviamente abbiamo scelto questo server perché è anche quello con meno lag che funziona meglio ma adesso continuiamo aspetta che c'è ah dice sacrifica quello che ami ah il nostro creeper eh capito non è ancora arrivato e non possiamo neanche più tornare indietro tra l'altro eh capito nel senso non c'è il creeper ma qua sotto? eh vedi c'era qualcosa infatti no beh ma si va avanti chiaro ah ecco cos'era poi bisognava portare il nostro creeper che sarebbe esploso eh vabbè magari un giorno torneremo su e lo faremo che figata però sta cosa che ci sono un sacco c'è le cose side da poter fare se ti svegli un attimo qua c'è delle tore, delle robe tra l'altro sono sicuri eh sì no stavo dicendo sono sicuri che non possiamo più tornare a casa eh no mi sa di nuovo to the demon cells aia 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 ah ok dobbiamo farlo da lì ok dobbiamo fare il giro qui devi scendere e saltare subito sopra l'altro non devi pigiare niente devi pigiare quando perderemo l'infinità ma la prima caduta l'ho fatta altissima ora basta ma mi mi no scusa non mi ricordo mai che c'è la spintina ma ma creative no no naggia al cazzo vado io porco diaz vada vada non cincischi oh ci ho fatta sei fatta? sì arrivo a caso completamente è chiaro se lo so ho fatto ho saltato sulla barricata di ferro e poi da lì mi sono lasciato andare che vengono partita più in alto in pratica ho capito che le cose in chat vengono scritte in verde sono le cose chiave sì le cose dove restipo la tua quest comunque ho appena letto il fate and jump il salto della fede quello di assassin's creed la chiamata bene che sarebbe questo il salto della fede quello l'abbiamo fatto adesso quello lì naggia la puttana non riesco in pratica mi ci dice di prendere dalla nostra collezione di relute fresche delle alcune di ore e lasciarle andare però serve una combinazione che deve al piano di sotto dobbiamo mettere una combinazione che intera dobbiamo sapere nella macchina del codice la domanda è quale cazzo è? no la domanda è come si fa a salire su sta roba qua? oh oh l'ha fatta? sì cazzo sette anni dopo ragazzi non ve l'ho fatto vedere tutto perché ci ha messo un quarto d'ora allora questo è le nostre truppe le vedi? queste sono le nostre truppe fresche faccio delle scale dobbiamo sacrificarle diceva? no 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 dobbiamo reclutarle the not feed the zombie non dobbiamo dargliela a mangiare ok se scendiamo qua probabilmente risaliamo dalla scala gialla probabilmente il mondo è stato salvato di nuovo è stato salvato il mondo abbiamo tolora qua bene in giro se c'è qualcosa più c'è quadri più c'è delle vettine niente ok allora scendiamo di giù per forza non c'è verso aspetta qua qua no cosa? quando mi ha detto qua 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 vabbè è una scalettina qua che non so a cosa potrebbe servire qua c'è l'uscita ah è un parkour anche qua allora code machine for releasing the drops oh ce l'ho fatta la prima gli zombie sono anche buoni sti zombie aspetta c'è una chest qua oh finalmente le pozioni con i livelli ragazzi possiamo incantarci almeno la giusta combinazione accenderà queste lampade qua allora ho tre tasti uno due tre c'è scritto noi abbiamo un libro da poter leggere è solo che non cioè non c'è non ho indizi nel libro in realtà proviamo a caso due uno tre cosa? due uno tre è giusto se c'è la luce qua e se c'è la prima ok ma vediamo aspetta uno se c'è la terza tre due wow completamente a random something is wrong no the dead are noxious defeat yourself they want your blood ah ok vabbè io lo sapevo io perché hanno hanno capito che c'è qualcosa di strano e morisce ah è 1.12 è vero dobbiamo fare tic tic ahia oh c'è un scheletto oh questo è più forti questa è un'armatura questo è un giacca e cravatta anche eh eh pam pam ok morti però è giusta la combinazione uguale ok si aperta qua ah cioè non è che ci vuole male in realtà il lord of the ring lì il lord of the devil in realtà io ho paura che qua ci faccia saltare verso l'alto oh salta è bellissimo ok saltiamo verso l'alto allora il lord of the devil in realtà il lord demoniaco non è che ci vuole male esatto ha detto semplicemente di qua di qua di qua ha detto semplicemente ma genitor cosa vuol dire se no non sono i nostri genitori vero no no non è che abbiamo ammesso mamma e babbo non so hai fatto tutto te va bene comunque non è che ce l'ha lui con noi semplicemente ha detto che i demoni ce l'hanno con me e quindi è bene che si scappi per il nostro bene oh questo è un trickshot incredibile altro che l'amalaggante allora vieni qua PEM ok che musicina incredibile è la musica per cui ho fatto io la sfida però per magari c'è qualcosa dentro hey you listen help us we are being turned into them release us please the Lisa button over there ah Pente vedi c'è una quest noi dobbiamo decidere se fare i buoni o i cattivi Pente ti dice se li trasformi in zombie eh li trasformi in zombie oppure li uccidi nella lava per avere un miglior insomma un miglior passaggio via dalla città della prigione e se invece aprissimo la roba e invece di trasformarle in zombie sconfiggessimo gli zombie gli dessimo una mano allora open the cages in hope of saving some prisoner oppure quella della lava avete la lava te li fa ammazzare direttamente semplicemente quindi se no devi rilisi no allora li voglio aprire the prison and being to change assentando zombie stanno diventando ho pigiato entrambi ho pigiato boh sono a sé che succede io ma se vi leggere non ho capito che faranno i creeper eh c'è uno spawner c'è uno spawner non abbiamo il piccone però ma poi intanto non possiamo romperlo ah quindi con gli spawner ci attacchiamo al cazzo semplicemente bravo io ci metto sopra una torcia qua volando si può ricadere ma cos'è la caduta iniziale questa si si è la caduta iniziale questa aspetta caduta iniziale vieni a darmi una mano sto morendo dove sei dove sei dove sei qua ok no no ho un cuore occhio non colpire me occhio dietro 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 aiutami esatto ah ma ha fatto spawner qua meno male ma è un frankenstein ma che cazzo ma quanto l'hanno fa poi ma che quindi volendo ci si può rituffare ma noi non lo faremo anche perché dobbiamo andare all'uscita allora aspetta comunque se muori non perdi niente no c'è il più invento reattivo ok è chiaro vabbè ragazzi ma che è di ferro sto coso dov'è no raga no raga è immortale no danzo dietro aiuto danzo aiuto danzo dietro dietro c'è proprio uno spawner lì oh creeper pure che cazzo spawner è lo spawner bivalente no ok qua serve per forza lo scudo zio mettiti lo scudo mate fidati mi salva un botto dalle esplosioni di creeper ah qua c'è la cella ma ma che ansia che mi sta facendo venire a sta mappa qua qua c'è la cella figlio di una bidella io qui ho pigiato tutte e due le leve magari si è buggato qualcosa ok siamo qua aspetta johnny qua c'era johnny johnny craic johnny craic c'era johnny probabilmente l'abbiamo ammazzata senza cosa redroom 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 che cazzo vuol dire redroom 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 ce l'ho fatta no bisognava pigiarla tenendo premuto shift guard post exit te la dobbiamo andare all'exit in teoria quindi guard post si cazzi però non ci andremo allo stesso perché c'è qualcosa oh una chest plate exit open from guard post ah ok ecco infatti hey hey no hey hey boom ma pensavo fosse il creeper quello nostro invece no sono trasparenti sono invisibili ma ha capito oh sono tanti sono tanti sono troppi anzi ma perché poi dal niente sono arrivati che è sta roba ma poi perché sono invisibili sti robe the guard post is unlocked aspetta aspetta occhio si pigi la leva c'è qualcosa per caso taze is unlocked dice si 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 che che no 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 aspetta devi scegliere da qua no no sei un pazzo via eh che numero anche da qua sopra sto dettando un attimino leggi da qua sopra c'è un altro ah eh vabbè easy man oh qua no no scoppia bravissimo ah ok qua abbiamo la shortcut shortcut vieni vieni qua eh ma non posso basta fare un pochino il bello e il cattivo tempo con i reaper e poi è easy la cosa aspetta aspetta vado so qua io anche lassù in cima c'è gente te li sto un po' decimando da lontano vai 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 boom ok no scusa mortacci tua occhio da dietro lontano lontano arrivo un altro arrivo un altro occhio oddio no dietro dietro perché dietro cosa è che mi ha colpito aiuto oh ehi ehi gnomo vai via dal cazzo ancora il mondo salvato ma siamo superman hi there friendo thank you for releasing me perché altro abbiamo questa la johnny axe se ti do una botta incredibile con questa ti faccio male cacca miseria che fucilata la sua mangiamo la sua ascia perché ci ha ringraziato perché abbiamo salvato tipo i suoi amici magari vedi magari se non salvavamo i suoi amici quando c'eravamo la johnny ascia si ma aspetta che gli sto tribulando con un blade ti stai ti stai tribulando eh sto tribulando sto litigando ma è pieno è pieno di questi sherein tutti di genere ebbene meno male è tipo una specie di check point roba simile eh si ovviamente siamo usciti e ha detto che abbiamo deciso di uscire quindi tra un po' e lui non potrà più controllarci ma saremo contro di lui ah ma lui sarà sempre comunque da noi cioè lui ci potrà comunque stare sempre vicino vivi si si oh oh qui c'è del demonic troop c'è una ascia di ferro che marema maiala va a fetta eh ah picchia picchia no qui ce ne sono tanti è qua via dalle bolas via dalle bolas ma quanti sono? sono un po' troppi? ahia boss pama boss pama boss pama manco nelle bedwars boom 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 aia picchia anche velocemente per rimandarli al loro posto ok uno è morto ne sono morti tanti in realtà oggi ma non noi ok sono morti tutti cioè vogliamo sponerla sotto può darsi senza può darsi famo brutto ho messo una torcia non dovrebbero più sponare stai seguendo te qua c'è un altro seguendo me il maialotto della landa tac morto ok qua non c'è nulla vediamo ok un arco con fire aspect e flame è mio grazie già ma anche c'è un arco fire aspect perché non lo sto usando? ah questo è un tipo delle torri di comando queste c'è quelle di zombie più avanti c'è quella di scheletri e così via credo ah ok ma siamo venuti nel posto giusto no perché aspetta dietro c'è una casetta si chiama la casa morgulis penso sia un altro delle truppe del male come noi occhio c'è da fare un saltino entry for the un friend of the family io penso sicuramente un friend of the family eh sì no bah amorgulis de merda facci entra nini questo è lo scenario che ci lascia oggi e che ci rivedrà nella prossima puntata io e zanzo vi chiediamo un bel pollice in su ed un commento noi vi salutiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti